Germina al libertario grosso.Organo di espressione della gioventù anarchica di Len, figlia, che cos'è il marxismo? Prima di iniziare la critica dei principi e dei risultati del marxismo, riteniamo necessario porre una domanda che apparentemente ha il carattere di un indovinello, ma che è ampiamente giustificata se si tiene conto che i difensori di questa dottrina affermano che solo essa offre il necessario omogeneità che porta ad un'attività coerente nella lotta per l'emancipazione umana. Questa domanda è la seguente, cos'è il marxismo? Vedremo più avanti che, sulla base dei testi dello stesso Karl Marx, si può rispondere in modi molto diversi, persino contraddittori. Per ora limitiamoci ad alcuni pratici immediati, che influenzano davvero la storia. Nel 1936, prima del trionfo di Franco, c'erano tre correnti note in Spagna, il Partito Social Democratico Socialista, che era il più importante, il Partito Comunista Ufficiale e il Partito Operaio di Unificazione Marxista, Pouma. Ciascuna di queste correnti affermava di essere l'unica valida, l'unica autentica rappresentante del pensiero di Marx. Ma il Partito Comunista ha chiamato i membri del Partito Social Democratico Spagnolo Traditori e ha affermato che violava i sacri principi enunciati nel Manifesto e nel Capitale Comunista. A cui hanno risposto i leader e i teorici del socialismo che hanno continuato Pablo Iglesias, Iaime Vera o Pablo Lafargue denunciando la deviazione che consisteva nel cercare di realizzare il socialismo in una nazione non sufficientemente industrializzata e impiantare la dittatura del proletariato quando le condizioni non esistevano. Carattere socio-economico, concentrazione del capitalismo, importante sviluppo dell'industria e del proletariato industriale, progresso tecnico nell'agricoltura con l'eliminazione delle forme arcaiche di proprietà della terra, indicato dal marxismo come conditio sine qua non di socializzazione secondo al presunto concetto scientifico di socialismo. Il Poum ha risposto a queste due correnti, e con essa i trotschisti, Poumisti poco convinti, che hanno violato i principi del marxismo, da un lato, quelli che non volevano portare avanti la rivoluzione sociale il prima possibile, dall'altra quelli che volevano attuarla secondo le norme. Applicato dal Partito Comunista Ufficiale, che, seguendo Stalin, ha violato i principi del marxismo-leninismo. Solo l'interpretazione poumista o trotschista del marxismo era quella buona, quella autentica, quella indiscutibile. Oggi abbiamo i marxisti comunisti stalinisti, i marxisti comunisti trotschisti, i marxisti comunisti poumisti, i marxisti comunisti di Mao Tse Tung, i marxisti comunisti revisionisti italiani di Togliatti, i marxisti comunisti di Khrutkev. E le diverse correnti troziste. Abbiamo dimenticato i titisti. Ma, storicamente è a livello mondiale, le correnti e le correnti sotterranee sono state molteplici per molti decenni. Scuole e interpretazioni divise e contrapposte, ciascuna delle quali pretendeva di essere, a suo modo, l'unico indiscutibile interprete del marxismo. Fino alla rivoluzione russa, marxisti riformisti e semiriformisti, rivoluzionari e semirivoluzionari si sono scontrati ovunque. Nella stessa Russia, i bolshevichi con Lenin, Kikirin e Stalin, i menshevichi. Con Plejanov, fondatore della socialdemocrazia russa, e Martov, in mezzo al quale si trovava Trotsky, che sferrava colpi a destra e a manca, combatterono selvaggiamente e si accusarono a vicenda di deviazioni di destra e di sinistra. In Germania, la patria del marxismo, la tendenza rivoluzionaria guidata da Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht si batte duramente contro la maggioranza socialdemocratica riformista il cui principale teorico era Bernstein. Tra i due c'era la tendenza semirivoluzionaria e semiriformista guidata da Karl Kautsky. Il più famigerato marxista dell'epoca, che Lenin dovette battere parecchio chiamandolo il traditore Kautsky quando vide che il suo avversario tedesco si rifiutava di approvare la presa del potere bolshevica russa. Come si suppone, Kautsky dimostrò, sulla base di un'ortodossia non meno indiscutibile di quella di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, che le altre due tendenze tradivano il pensiero di Marx ed Engels. Le discussioni non ruotavano solo attorno a problemi tattici, poiché ogni autentico marxista deve sempre dare una presa scientifica, filosofica e dottrinale al minimo dei suoi gesti. Si riferivano a questioni teoriche legate alla strategia sempre autenticamente marxista che di loro derivava, ad esempio, da ciò che era principalmente dovuto, e secondo il metodo scientifico e dialettico marxista, alle crisi del capitalismo. Alcuni hanno sostenuto che queste crisi siano iniziate con un eccesso di materie prime, il Ferdin, un brillante teorico tedesco, afferma che questa origine va ricercata nei problemi monetari e finanziari, mentre il professor Tugan Baranovski, un marxista russo di cui si parlerà più avanti, ha affermato che la spiegazione più precisa era l'incapacità del mercato di assorbire il volume della produzione industriale, tesi generale degli economisti, ma condita con salsa marxista. In tutti i paesi europei, in Francia, Italia, Belgio. Ecc. Meno in Inghilterra dove il socialismo non è mai stato marxista, nonostante il fatto che Marx abbia scritto il suo lavoro a Londra e abbia preso lo sviluppo dell'economia inglese come materiale di base del suo socialismo, le correnti hanno lottato e ricordato le controversie e le opposizioni del Chiese cristiane, cattolica, protestante, ortodossa ed eterodossa, che discutono della divinità di Cristo, del significato del battesimo, del valore della confessione, della santità del Papa o della verginità di Maria. E se ricordiamo che queste controversie hanno portato alle guerre di religione, allo sterminio dei falsi cristiani da parte di quelli veri, possiamo considerarle poco importanti. Nella Russia bolshevica hanno portato allo sterminio totale di tutti i marxisti non leninisti o stalinisti, e di tutti i rivoluzionari non marxisti. A queste grandi correnti si devono aggiungere quelle piccole. Erano innumerevoli. Julian Gorkin, che nel 1936 si era separato dal Partito Comunista pur rimanendo un marxista, ci ha recentemente raccontato come era stato incaricato. In quella data, stabilire in Messico un legame di contatto tra una quindicina di partiti marxisti di opposizione e minoranza, tutti europei. Naturalmente, ognuno ha anche preteso di essere l'unico interprete accurato dell'autentico pensiero marxista e lo ha dimostrato, citazioni in canzoni. Infine, citiamo alcuni nuclei marxisti sindacalisti rappresentati dalla Briola e dai suoi amici in Italia. Dal Sorel di certi tempi e dai suoi amici in Francia, dai nuclei sindacali argentini, dalle correnti interne del socialismo italiano. E quelli che si erano formati all'interno del Partito Comunista russo installato al potere, opponendosi ad altri Lenin, Trotsky, Boucharin, Zinoviev, Alejandra Kollontai e Shlapnikov, questi ultimi due portatori della tendenza opposizione operaia, i cui difensori assimilarono Lenin ai piccoli borghesi e anarchici. È noto che la tendenza marxista-leninista è apparsa più tardi. Marxisti-leninisti-stalinisti che i comunisti ufficiali di tutto il mondo hanno affermato, per trent'anni, di essere gli unici giusti e autentici dopo aver affermato, con uguale sincerità, che il Leninista era anche l'unico giusto e autentico. Abbiamo visto poi apparire la tendenza krutcheviana, non meno giusta e autentica delle precedenti. E in questo momento si sta elaborando la tendenza post-krutcheviana, non sarà meno marxista, giusta e autentica, qualunque sia la strada intrapresa. In breve, l'attuale scuola cinese di marxismo è per i suoi sostenitori, l'unico valido interprete del pensiero di Marx, così come l'attuale scuola italiana, revisionista di quella che i suoi membri hanno proclamato l'unica verità marxista dal 1917 al 1961. Ma contro di essa si oppone la tendenza non solo leninista, ma anche bordighista creata nel 1939 da Bordiga. Cos'è il marxismo? La fortuna è per chi crede di poter rispondere con fiducia, perché se fosse possibile radunare tutti i rappresentanti di tutte le scuole, per metterli d'accordo, si verificherebbe una tale cacofonia che la stessa torre di Babele sarebbe, al suo fianco, un modello di unità e armonia. Ciò non impedisce che ogni frazione marxista sia convinta di avere l'unica verità indiscutibile sull'interpretazione del materialismo storico o dialettico, l'evoluzione della società, il presente e il futuro dell'umanità, la strategia politica e le appropriate tattiche rivoluzionarie in ciascuna nazione, il modo di realizzazione del socialismo, le fasi che devono essere attraversate attraverso la presa del potere rivoluzionaria o parlamentare, alleanze buone o cattive, il grado di patriottismo, antimilitarismo, nazionalismo o internazionalismo che dovrebbe essere applicato, avanza in una direzione e le battute d'arresto in un'altra, l'uso dello Stato. E, cosa meravigliosa, per ognuna di queste posizioni, per quanto contraddittorie, si può andare a Marx. Ci sono più interpretazioni del marxismo che peli sulla barba dell'insegnante. Ma, indubbiamente, l'insieme costituisce una barba. Si può obiettare che tutte le scuole politiche e sociali hanno tendenze diverse, e anche opposte. È vero. Ma il liberalismo, il repubblicanesimo, il socialismo non marxista, l'anarchismo, il sindacalismo, non sono stati fondati da un solo pensatore, creatore della dottrina che gli ha dato il nome. La diversità di pensatori e teorici spiega la diversità delle tendenze, e soprattutto ognuno di loro non pretende di possedere l'unica verità, mentre per le sue origini e le sue pretese scientifiche e dogmatiche, il marxismo dovrebbe presentare un'unità di pensiero, coesione e attività teorica e pratica tra teorici e sub-teoristi, commentatori, attivisti, interpreti e partiti vari. La molteplicità delle sue forcelle dimostra la, bancarotta del suo contenuto reale. Non esiste un marxismo, ma marxismi pluralizzati in costante conflitto. Queste contraddizioni dovrebbero fare di chi crede di aver trovato in lui l'unico filo conduttore su cui riflettere l'interpretazione della storia. Gaston Leval. Tefalaki of Marxism, 1967 Gaston Leval, nome originale Robert Pillar, Parigi, 20 ottobre 1895, Parigi, 16 aprile 1978, era una narco-sindacalista francese, combattente e storico della rivoluzione sociale spagnola.